E' stata Serenissima, set cinematografico, ambientazione per le storie letterarie casa di personaggi e fumetti. Città unica per fascino e storia, Venezia adesso vuole diventare anche capitale verde europea. La candidatura per il 2022 è portata all'attenzione dell'UE dall'euro parlamentare del PD Cecil Chiang e da presidente della Municipalità di Venezia Giovanni Andrea Martini, un modo per ridare splendore ad una città intera e alla sua laguna, dal 1979 patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Inquinamento dell'aria, dissesto idrogeologico della laguna, spopolamento della città e impoverimento della qualità della vita con i residenti soffocati dal turismo di massa, tutte sfide che Venezia intende vincere con l'aiuto dell'Europa. Il riconoscimento di capitale verde europea offrirebbe uno strumento in più per portare innovazione e rispondere alle sfide ambientali, rilanciando una città e tutto il suo patrimonio. E' importante parlare in questo momento di Venezia, ma anche del dissesto idrogeologico per quello che riguarda la laguna. Venezia non deve morire, parlare della cultura, parlare dei giovani, parlare dei suoi abitanti, ma parlare proprio di quello che Venezia rappresenta. E' proprio per questo che abbiamo anche lanciato l'iniziativa Venezia Capitale Verde d'Europa per il 2022. Pensiamo che sia necessario che la città di Venezia possa eliminare l'inquinamento, l'intossicazione provocata dalle grandi navi, proprio nel momento in cui si è in grado di ricreare nuove attività, nuove economie, soprattutto per i giovani, che facciano diventare Venezia di nuovo una città attiva, dinamica e non solo legata all'essere visitata.